Ok, non è bellissimo, ma ha dei superpoteri. Lui è il nostro amico enterocefalo glabro, ovvero senza peli. È praticamente un mix tra un topo e una talpa. Vive in Africa, ma la cosa più assurda è 1. Non ha i trasmettitori del dolore, quindi non sente mai male. E 2. Questa specie non prende mai il tumore. Ma chissà se prende il coronavirus.